Cosa intende fare la regione con l'aeroporto Arlotta di Grottaglie? E' per rispondere a questa domanda che l'assessore regionale ai trasporti Giovanni Giannini e l'amministratore delegato di aeroporti Puglia Giuseppe Acerno sono arrivati a Grottaglie al comune su invito del sindaco Ciro Alabrese. In estrema sintesi la risposta è stata favorevole per i voli cargo, quindi sul collegamento con il porto. Non ho detto che sono previsti degli investimenti, ho detto che sarà necessario dotarsi dei progetti di realizzazione di infrastrutture di collegamento tra l'aeroporto di Grottaglie e il porto di Taranto per la creazione di una piattaforma logistica che si inserirà nei circuiti internazionali globali, del mercato globale e questi progetti saranno candidati nella programmazione 2014-2020 per finanziamenti europei. Restano invece in forze i charter? Non è esclusa questa possibilità, non ci sono veti né esclusioni a prioristiche, se si creano le condizioni si vedrà di fare anche i charter turistici nel periodo estivo. E' un no secco invece è arrivato per i voli di linea, tre decisioni più o meno condivise e prese al tavolo sull'Arlotta che puntano a... A un percorso che infrastruttura in maniera significativa l'aeroporto di Grottaglie per il suo uso cargo logistico ed industriale mette in campo azioni che non escludono la possibilità che charteristica di natura turistica possa vedere l'aeroporto di Grottaglie come destinatario appunto di mete che riguardano tour operator e compagnie aeree che intendono visitare questa realtà o la Puglia nel periodo estivo. Quindi noi continuiamo a svolgere la funzione di supporto, non facciamo le politiche, non tocca l'aeroporto di Puglia fare le politiche. E' vero però che fino ad oggi la pianificazione regionale, lo ha detto il sindaco, è rimasta solo sulla carta. Per questo il tavolo si è chiuso con una nuova richiesta. Serve un cronoprogramma preciso per l'Arlotta e lo vogliamo entro 30 giorni. Nel passato sicuramente l'aeroporto di Puglia e la stessa regione non ha prestato la dovuta attenzione verso le istanze che però venivano da questo territorio. Abbiamo bisogno che si ponga e si dica in maniera chiara che cosa l'aeroporto di Puglia e la regione vuole fare di questo territorio rispetto a una pianificazione che è rimasta carta. Noi abbiamo chiesto e convenuto con l'assessore e con il direttore dell'aeroporto di Puglia che la pianificazione regionale, un po' rivista e corretta, deve sì rappresentare le vocazioni che travalichano anche i confini regionali rispetto all'attività commerciale al cargo, ma al tempo stesso va agevolata e favorita anche un'attività dal punto di vista della vocazione turistica.